Salve a tutti ragazzi e bentornati all'Hot Club Io sono Padman e siamo qui con un nuovo snapshot Il 12W50B Una variante di quello di ieri Scusate, dell'altro ieri? No, ieri, si, ieri Piccoli cambiamenti, soprattutto 10 bug fix Più e meno importanti Tra i più importanti, diciamo, la desincronizzazione delle ceste Tra client e server Cioè nelle server veniva registrato che dentro quella cesta c'era determinati oggetti Il client ne vedeva altri E altri che riguardavano i mob Come i mob andavano più lenti Quando venivano colpiti da noi Quindi era magari anche una cosa buona La possibilità che gli zombie dopo ogni tanto Stoppa e si fermano Cioè non vi attaccano più Vanno più per i cavoli loro Non vi attaccano più E questo è troppo facilitato, diciamo Altri bug fix Per quanto riguarda il 3D Ce ne sono stati ben pochi A parte c'è stato un piccolo bug Sui oggetti incantati in 3D In cui molti si vedevano Molti no Si vedevano male Davano un po' di problemi E un bug per quanto riguarda il combinazione di tasti Control e Q Che serviva per gettare la roba a terra Cioè tutta insieme Creava dei problemi Nel caso in cui avevamo la mano vuota Nel senso Facevamo per buttare per terra Ma non avevamo niente Una versione B Perché la prossima settimana Dovrebbe uscire la 1.4.6 Ovviamente in pre-release O comunque qualche giorno prima Dovrebbe uscire la pre-release Quindi stiamo ad aspettare Vedremo come procede il tutto Breve video Nessun gameplay Perché non ne trovavo la necessità Vi invito a lasciare un mi piace Un commento Iscrivervi al nostro Al canale E alla nostra pagina facebook www.facebook.com Slash mallpad E niente Ci vediamo al prossimo video Qui da Padme è tutto Un saluto dall'All Club E Ciao a tutti